Non solo nel calcio era derby tra Rezzo e Siena anche nel basket al Palaestra nell'ultima gara della stagione regolare l'Amen Scuola Basket a Rezzo ha battuto la Vismederi Costone Siena per 79 a 61 vincendo il suo girone. Un risultato forse impensabile per la SBA ad inizio stagione quello di arrivare primi e ora sotto con i playoff. Voglio ringraziare ancora una volta pubblicamente tutti i ragazzi, tutti i miei ragazzi che hanno giocato perché veramente quest'anno si sono spaccati la schiena perché così tanto non si sono mai allenati e i risultati si vedono. Quindi non so più che dire l'ho già detto mille volte, la soddisfazione è tre volte maggiore rispetto a società che comprano giocatori a destra e a manca per poter vincere questo campionato. Oggi possiamo dire che abbiamo vinto il campionato, fra virgolette, la regular season, mai nessuno di noi avrebbe mai pensato che fossimo arrivati in fondo primi. Questa è la cosa che riempie d'orgoglio a tutti quanti. In più voglio ringraziare il coach Delia perché ha portato una ventata di novità nella serie C, che questo è un altro vantaggio e però mi devi consentire. Oggi noi abbiamo vinto due partite, una in campo e una l'ha vinta Fabrizio Pierozzi perché se, faccio per spiegarlo, se noi non avessimo fatto un intervento velocemente oggi purtroppo avremmo preso partita persa perché perché si è sfondata due tavoli del parquet e il problema è che non si riusciva perché sotto ancora risentiamo i postumi dell'alluvione famosa del crollo, quindi sotto ancora un po' marcio, quindi Fabrizio ha dovuto segare un mezzo metro quadro di parquet, togliere tutta la parte sotto che non teneva più, rimettere dei quadri. Tutti noi siamo corsi per poterlo aiutare. Abbiamo registrato. Ha rimesso tutto, esatto, e ha rimesso tutto. Ma la cosa che conta non è tanto una persona che non lo fa di lavoro, ma averlo fatto con il cronometro dietro che scadeva, ogni minuto arrivava un dirigente a dirgli manca un minuto, manca 30 secondi, cioè così si lavora male e quindi io devo togliermi il cappello di fronte a questa cosa. Ecco perché dico oggi l'ha vinta Fabrizio Pironti. Perché non c'è il tempo come nel calcio, praticamente se c'è un inconveniente, causa di forza maggiore, si può aspettare? Fino a quanto tempo si può aspettare? C'è, diciamo, in tutto il campionato, una ventina di minuti di norma riusciamo ad ottenerne, ma l'ultima partita viene giocata proprio contemporaneamente in tutti i campi, proprio per, viene da una storia vecchia, per evitare che uno venda le partite o le compri, insomma, a non ci apporta niente, a noi basta vincere, quindi il nostro ordine era vincere tutte, quindi più regosizzo poteva fare. Detto questo, però giustamente, noi dovevamo fare questo intervento col cronometro, cioè è una cosa impressionante. Io quindi devo ancora veramente ringraziare, ringraziare tutti quanti, compreso la TV.